Eccoci ritornati in diretta, seconda e ultima parte di Just Today di questa mattinata in compagnia di alcune graditissime ospiti perché saranno con noi le signore della palestra Body Shape guidate dalla dottorella Raffaella Zorretti con le quali ormai da qualche tempo abbiamo una rubrica ideata dal nostro Roberto Cocomazzi che è un giorno un allenamento, rubrica che solitamente va in onda il martedì e giovedì a un certo punto della mattinata proprio per iniziare a riscaldare i muscoli e predisporci meglio a vivere tutta la giornata che abbiamo davanti Dottoressa Zorretti buongiorno, benvenuta a te e alle nostre amiche della palestra Body Shape Buongiorno, grazie a voi Loro sono le protagoniste insieme a te di questa rubrica attraverso la quale cerchiamo di raggiungere degli obiettivi specifici a tutela proprio della terza età. Quali sono questi obiettivi? Allora, l'attività della terza età garantisce un buono stato di salute generale perché migliora l'attività respiratoria e cardiocircolatoria previene ulteriori diciamo disfunzioni che può avere il sistema cognitivo e motorio e poi c'è l'aspetto della socializzazione perché tra di loro ormai si è creato un bellissimo gruppo e quindi questo è anche un aspetto importantissimo dato che loro trascorrono tante ore in casa Quando si dice mente sana in corpo sano, ecco a questo proposito mi fa piacere sottolineare quanto sia importante fare sport a scopo preventivo Assolutamente sì Tu sei un'esperta in attività motoria preventiva e adattata, che cosa significa? Preventiva perché diciamo soprattutto nella terza età alcune patologie magari non possono apparire subito ma si possono mostrare nel corso degli anni Preventiva noi preveniamo quelle che sono le disfunzioni articolari quelle che diciamo possono apparire poi nel corso degli anni quindi facciamo questa tipologia di attività Per esempio rafforziamo la muscolatura della spalla che può essere soggetta ad artrosi nel corso degli anni adattata perché nel momento in cui c'è una patologia come nel caso che abbiamo visto prima chi ha dolore al ginocchio facciamo quella tipologia di attività che può rafforzare la muscolatura del quadricipite e quindi sostenere poi il ginocchio Ma noi oggi in diretta faremo vedere qualche esercizio Facciamo vedere qualche esercizio Vogliamo passare dunque all'azione? Sì, subito Prego dottoressa Allora ci disponiamo qui dietro di me Facciamo vedere giusto qualche esercizio Inizieremo con una circonduzione delle spalle quindi l'articolazione scapolare Faccio anch'io Indietro, certo Questa serve soprattutto per rilassare la parte superiore In avanti E poi possiamo anche unire le nostre braccia e fare delle circonduzioni dietro Loro ovviamente sono allenate e quindi questo per loro è un movimento molto semplice Io ho il microfono, questo non lo faccio, se no mi salta Ovviamente poi adattata, l'adattiamo al singolo soggetto Loro sono molto autonome e quindi vanno tranquillamente Poi ci spostiamo con uno step touch e iniziamo a riscaldare le gambe Questa diciamo è la parte iniziale di riscaldamento che noi dedichiamo all'inizio di ogni nostra attività Sul posto, coordinazione oculo-manuale Quindi braccia-gambe Questa è la nostra parte di riscaldamento Poi adattiamo l'attività a quella che è l'esigenza di ogni Facciamo una miscela di tanti esercizi Verso l'alto Ci fermiamo sul posto Questa è la fase di recupero dove inspiriamo ed espiriamo Inspiriamo ed espiriamo Ovviamente con loro evitiamo saltelli Evitiamo tutto ciò che non è adatto a questa particolare età E come vediamo tante volte durante la rubrica Un giorno un allenamento Che va in onda il martedì e giovedì Lo ricordiamo Tante volte anche stando da casa Si possono recuperare dei movimenti semplici Che ci aiutano a riscaldare la muscolatura e affrontare meglio la giornata Esatto, questi esercizi che abbiamo fatto li possiamo fare tranquillamente anche da seduti Circonduzione delle spalle Molti esercizi che noi proponiamo Li proponiamo in entrambi i casi Sia nella stazione retta che nella posizione seduta Proprio per aiutare chi è a casa e non ha una buona mobilità articolare Di poterli fare tranquillamente Poi ovviamente come abbiamo detto La palestra diventa anche un luogo di socializzazione Quindi oltre a tenere allenato il corpo Si allena anche la mente Si fa relazioni Si fanno amicizie Si affronta insieme la giornata e la vita Per cui diventa un bellissimo momento anche di incontro e di socializzazione Ma a parte la palestra Per meglio dire, comprendendo anche il momento in cui si fa attività fisica in palestra Durante l'arco di una giornata Quante volte consigli di fare un'attività motoria minima come quella che abbiamo fatto adesso? Allora, noi generalmente loro lo fanno due volte a settimana Però chi è a casa può anche dedicare per esempio nell'arco della mattinata o nel pomeriggio Magari seguendo la nostra rubrica Anche due volte nell'arco della giornata Non sono esercizi molto impegnativi Quindi magari chi soffre di qualche patologia E trova beneficio Può farlo anche due volte nell'arco della giornata Per quanti minuti per avere un reale beneficio? Perché magari se lo facciamo per pochi secondi E come non averlo fatto? Allora, è ovvio che c'è tutto un mondo dietro Però dieci minuti Dedicarli all'attività fisica Diciamo poi alla fine nell'arco della giornata Sarebbero venti minuti Per loro è più che sufficiente Due step da dieci minuti Quindi possono aiutarci a vivere meglio Prevenire patologie Tenerci più tonici Sì, sì, esatto E più allenati E recuperare qualche funzionalità magari persa Molto bene Quali sono i programmi per l'anno nuovo Visto che ormai ci siamo? Beh, vorremmo ampliare le nostre sedute Quindi magari invitare anche attraverso la rubrica Più gente a dedicare la loro parte della loro giornata allo sport Lo sport è una medicina senza controindicazioni L'attività motoria è importantissima E noi siamo qui per appunto dire alla gente di fare attività motoria Sono perfettamente d'accordo con te Perché poi soprattutto negli ultimi anni Si è prestata una grande attenzione all'alimentazione Spesso però dimenticando che se curiamo l'alimentazione Ma non curiamo l'attività motoria Abbiamo fatto solo metà del lavoro Sì, perché è un connubio Alimentazione, attività motoria Miglior qualità di vita Molto bene Dottoressa Zorretti Io la ringrazio per essere stata qui con noi Ringrazio le nostre amiche Per aver aglietato questa diretta Con degli esercizi che solitamente facciamo in rubrica Se volete possiamo lasciarci con un ultimo esercizio Va bene Facciamo un esercizio di stretching Gamba dietro distesa Gamba avanti Iperestensione della colonna Spalle basse lontano dalle orecchie Sguardo proiettato in avanti E mantengo l'estensione della gamba 30 secondi Cambio E estendo l'altra Mi raccomando i piedi paralleli Che guardano tutte e due in avanti Estensione Spalle lontano Unisco E srotolo E srotolo Grazie Grazie a voi Buon proseguimento di giornata Vi chiedo Grazie mille Vi chiedo solo di accomodarvi un istante Il tempo di lanciare un nuovo stacco pubblicitario Così poi possiamo toglierci i microfoni con grande comodità Grazie ancora per essere state qui con noi Invitiamo il pubblico da casa a seguire la rubrica Un giorno un allenamento ideata dal nostro Roberto Cocomazzi In collaborazione con la palestra Body Shape Per tenerci sempre in forma Linea alla regia Grazie a tutti